Il braccio di ferro alla fine l'ha vinto la Lega, saranno quattro infatti gli assessori del carroccio, così come aveva detto il coordinatore regionale Giuseppe Bellachioma, che forte dell'apporto decisivo fornito alla vittoria del presidente Marsilio il 10 di febbraio, ha ottenuto anche la vicepresidenza della Giunta. A Forza Italia, che avrebbe desiderato due assessorati, ne spetta uno solo, ma gli azzurri avranno posti chiave come la presidenza del Consiglio regionale e il sottosegretariato di Giunta. Resta a bocca asciuttazione politica con Gianluca Zelli, che in palese disaccordo con la decisione presa nel vertice di Palazzo Silone, ha lasciato anzitempo la riunione scuro in volto, non volendo parlare con la stampa. Domani, molto probabilmente, il leader della formazione civica convocherà una conferenza stampa che si annuncia infuocata. A spuntarla, nel derby per l'ultimo posto disponibile in Giunta, è stato il partito del presidente Fratelli d'Italia, a cui andrà l'assessorato. Non ancora ufficializzati, però, nomi e deleghe. Il presidente Marsilio dovrebbe sciogliere la riserva nelle prossime ore. Tra le ipotesi che circolano, quelle che vedono al carroccio il turismo con Pietro Quaresimale, le politiche sociali con Nicoletta Verì, le attività produttive con Nicola Campitelli e l'agricoltura con Emanuele Imprudente. Uno di questi dovrebbe anche essere il vicepresidente. Per Forza Italia, dopo tanto trattare, ci sarebbe la delega alla sanità, da vedere se collegata al bilancio, come deciso già nella passata giunta ad Alfonso. Mauro Febbo sarebbe in pole position. Lorenzo Sospiri, quindi, potrebbe essere il sottosegretario di Giunta, con Umberto De Annuntis, che a questo punto andrebbe a ricoprire il ruolo di presidente del Consiglio regionale. Infine, a Guido Liris, ex assessore comunale dell'Aquila, eletto con Fratelli d'Italia, potrebbe andare la delega ai lavori pubblici e magari quella alla ricostruzione. A questo punto resta soltanto da vedere quale posizione assumerà azione politica. Se dovesse ritirare il proprio sostegno con il consigliere Roberto Sant'Angelo, al pari di Marianna Scoccia, eletta con la lista di Udc-Dicidea, ripudiata in campagna elettorale dallo stesso governatore per la candidatura della Scoccia, moglie dell'ex assessore di centrosinistra Andrea Gerosolimo, ci sarebbe il rischio concreto che la maggioranza di centrodestra non abbia i numeri in Consiglio regionale. Un'ipotesi che Marsilio non vuole neanche prendere in considerazione, ribadendo che chi è stato eletto in maggioranza sta con la maggioranza e ha il dovere di rispetto dell'esito elettorale. Fa parte del Consiglio, continua Marsilio, anche perché c'è un robusto premio di maggioranza che premia anche le formazioni minori, ma i numeri potrebbero dire tutt'altro. Un 16 a 15 che non consentirebbe grandi margini di manovra in Consiglio per il nuovo governo regionale.